Il cartello è molto chiaro. 7 aprile, io apro, abbiamo il diritto di lavorare. In questi giorni ad esporlo sono un gran numero di negozi del quartiere Carrassi, messi in ginocchio dalle restrizioni imposte dal governo. Nessuna negazione della situazione sanitaria, si spiega. La protesta si basa sulla constatazione di un dato di fatto. Nonostante le limitazioni, le strade sono piene, i controlli sono pochi e guardando i dati sui contagi, le misure così come sono state adottate si stanno rivelando poco efficaci. A dirlo sono i titolari stessi delle attività, messi economicamente in ginocchio dalla pandemia. Questa è una zona rossa, noi siamo teoricamente in lockdown, lockdown uguale, tutti a casa. Questo è tutti a casa, macchine, gente che cammina, gente che va in giro e prende aria. E voi state chiusi? E noi siamo chiusi. Se io continuo a stare chiuso, rischio di chiudere a fine mese perché non se ne può più, è una cosa insostenibile. È una situazione bruttissima, la gente passa, non vuole aspettare, va via. Stiamo lavorando pochissimo, stiamo lavorando al 10%, c'è pochissimo. Ce la fate agire le spese? No, assolutissimamente. Abbiamo da pagare tante cose, ci sono gli affitti, abbiamo una famiglia. L'iniziativa in programma per mercoledì 7 aprile è stata organizzata dall'associazione La Formica, con il supporto di Bari in Quarta di Francesco Magrone. A spiegarne le ragioni è stato Mimmo Tarantini invece, storico commerciante barese. Nel 7 aprile noi apriamo, facciamo i disobbedienti, ma non vendiamo. Però dall'otto, signori miei, o ci date delle risposte nell'immediato, oppure noi apriremo e venderemo. Io ho un figlio, per esempio, che non prende, è un genero che non prende la disoccupazione da casa integrazione dal mese di ottobre. Ci sono aziende che hanno avuto solo 1.500 euro dal comune di Bari, altre aziende che hanno avuto dei ristori, ma piccoli ristori. Qui il problema più grosso è che a fine marzo non c'è più la deroga per gli affitti. C'è gente che in questa pandemia non ha potuto pagare gli affitti.